Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Prendi le mani, sì, prendi, allontana il culo, giralo, 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 mettono lui nell'angolo, bravo, anche basso, anche basso, Matteo, anche al livello dei campi, non si preoccupare così, Matteo, prendi bene le mani, portavi al culo, Matteo, prendi le mani, allontana il culo, ok, vai tranquillo, Matteo, allontana il tuo culo, Matteo. Con un fianco, l'importante è che voi riprendete le mani, ed è facile fino qua, ora spingete le mani verso il basso, le mette sui piedi, ok, quindi poi, non è sufficiente, butta il culo indietro, e punta la testa di lui, butta il culo indietro, ma non punti la testa, non hai un appoggio. E' tutto quanto riguarda le mani, quando si acqua la testa di lui, ma anche Cancer, bravissimo, bravo, Matteo, stava, sito, sagliate le mani, grava ma anche se non hai im creators. Chiudo un po' della mano che stai fatta su di me, è un'altra prova da parte giù, che io sfrutto così. Va bene? Proviamo. Lui mi arriva con una guardia piuttosto aperta, no? Così, il suo errore è che io vedo che lui ha una guardia piuttosto aperta. Sempre al gebbare così, quando lui viene, viene, che mette il piede, che viene verso di me, a questo è il momento, io vedo una guardia un po' aperta, e lo rispondo quando lui viene così, fermo, fermo, fermo così, dal basso verso l'alto, la spada del piede, qua, così, guardia sbagliata, aperta, solo che se lo faccio quando lui, magari è un po' sul suo, o addirittura indietreggia, va via, ma invece lo devo fare quando lui viene verso di me, e non deve essere spinto, ma deve essere dal basso verso l'alto, che è anche più difficile da vedere. Un buon modo... Ganti, 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 due ganti. Gravatta, 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 prenditi le mani. Matte, tirati subito verso di lui, tirati subito verso di lui. Sul fianco. Mirati verso di lui, Matte, continua a girare così, sgroda il tono della schiena. Sei le mani, vai sul fianco. Matte, continua, bravo Matte, vai, 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 vai. Alzati Matte, alzati, alzati Matte, bravo Matte. Metto il gancio, la manuale devo mettere la cravatta e portarlo da giù e fare questa cosa qua, ok? Il materiale sta durissimo, può essere che non ci riesco, diciamo che non ci riesco, ok? E diciamo anche che io non riesco a infilare l'altra gamba qui, o non mi fido a farlo, perché non va molto bene, ma non riesco perché mi chiude. Quindi non ci riesco. Sono andato qua, così, proprio l'otto, se voglio posso usare la mano, quando cerco di alzarsi e io tiro questo braccio qua, tiro questo braccio qui. da qua, ma perché mi sto tenendo il rinforzo, capite? A questo punto mani, entrambe le mani sotto la schiena, testa, terra, mi prendo le mani, mi sono preso le mani e mi stendo le gambe. Tra l'altro, se avete l'accortezza di tenere la punta dei piedi, mettete la punta dei piedi, lui non tocca con le gambe e in alto la schiena. Se sta così normale, lui si muove, eccetera, ma se voi fin da subito, allora non lo fate più, mettete la punta dei piedi, come ci sono detto, è inaroccato di tutto. Quando siete qua, non fate il mattaleano di chiusura nella carotide, ma infilate l'avambraccio, strangolate la scuola sulla tracchea, con questo ossicino qua, così, tiro su. Fetto, freno sulla tracchea. Proviamo. Proviamo.